Oggi ho presentato in Consiglio regionale un'interpellanza sul nuovo ospedale di Termo per conoscere se ancora ci sono i fondi a disposizione, i quasi 82 milioni di euro lasciati dalla nostra giunta regionale, dall'impegno del Presidente D'Alfonso e dell'assessore Paolucci in maniera particolare e poi se sarà recuperato il vecchio edificio oppure sarà costruito il nuovo. Oggi Laveri con ritardo ha risposto e ha detto che si farà il nuovo ospedale a Termo. Non ha detto nulla circa il recupero dell'edificio esistente e soprattutto non ha assicurato i tempi di realizzazione di questa nuova struttura e soprattutto le ulteriori risorse che abbiamo chiesto. Ha parlato dell'articolo 20 ma ancora non si riesce a definire l'articolo 20 esistente, figuriamoci il nuovo articolo 20. Purtroppo registriamo un ritardo enorme da parte di questa giunta regionale che solo grazie alla mia interpellanza ha cercato di accelerare i tempi e le procedure. Ci auguriamo presto di avere una nuova struttura a Termo ma soprattutto di avere i contenuti efficienti ed efficaci e quindi l'ospedale di secondo livello come promesso a suo tempo dalla giunta Marsilio.